Le foto pinquetanti che esistano. Questa tragica foto riprende le impronte di una bambina di 4 anni prima che annegasse in uno stagno vicino al parco giochi in cui stava giocando. Questa foto venne scattata dalla quindicenne Julie Sund. La foto ritrae la sua amica sedicenne Silvina Pelosso e sua madre Carol Sund nella loro stanza di quest'hotel. Poco prima che il serial killer Carrie Steiner entrasse nella loro stanza e le uccidesse tutte quante. In questa foto il cantante John Lennon stava facendo un autografo al suo stesso assassino Mark Chapman. Poche ore dopo infatti Mark aspettò che John Lennon passasse davanti a casa sua e gli sparò contro 5 colpi di pistola. In questa foto questo ragazzo sorridente sta tenendo in mano il nucleo di plutonio della bomba atomica sganciata su Nagasaki che uccise oltre 70.000 persone. Questa è l'ultima foto che riprende il primo ministro indiano Rajiv Gandhi. Pochi istanti dopo questa donna con i fiori in testa si avvicinò al primo ministro e si fece esplodere uccidendo lui altre 20 persone.